Allora, ti dico una cosa, uno dei portieri più bravi, in assoluto, nei tempi e nei modi per costruire dal basso, non lo nominiamo mai, ma ti giuro, se vuoi lo analizziamo insieme, è Andanovic. E la gente pensa che Onana abbia fatto un upgrade in quel senso. Onana ha più calcio, ha più lungo, ha più visione, ma Andanovic è bravissimo. Però avere i piedi buoni e giocare bene non sono la stessa cosa. Per esempio, quello di cui discutiamo sempre qua, Mignan, che è fortissimo con i piedi, io ancora non l'ho visto giocare in una squadra che fa la costruzione, che aspetta la pressione, che fa il terzo uovo, perché fanno cose diverse. Quindi non te lo so dire ancora se è bravo, sicuro è bravo, perché è fortissimo con i piedi, quindi sicuro è bravo, ma non vanno di pari passo le due cose. Vero, vero.